Smantellato una rete di spaccio di droga a partire da un incidente stradale, quattro arresti e quattro denunce della polizia locale e organizzazione mista fra immigrati e italiani. Maxi terrazza il bivio di Barcola, ecco il rendering del progetto proposto da Michele Babuder che prevede una struttura unica con servizi di 150 metri. Studenti in piazza anche a Trieste e in altre 30 città italiane contro la nuova maturità, traffico bloccati in centro a causa della manifestazione di protesta. Soddisfazione della Corte dei Conti per il recupero di somme di denaro dai dipendenti pubblici accusati di assenteismo, oggi l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Puntiamo a collaborare sentendo in itinere la Corte dei Conti prima di varare nuove leggi e provvedimenti, così il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. Primi approcci, l'assessore alle partecipate De Santis a sveglia a Trieste ha precisato i termini della futura alleanza fra Trieste e Gorizia sulle riscossioni. Trieste avvolta dalla nebbia, una serata in stile fumo di Londra, in vista però c'è l'arrivo della Bore e un brusco abbassamento delle temperature nel weekend. Buonasera e ben trovati alla nuova edizione del telegiornale di Telequattro. Come avete sentito dal titolo d'apertura, la polizia locale ha smantellato una rete di spaccio di droga che stava gestendo la piazza triestina. Questa operazione si è originata da un fatto, da un evento che nulla aveva a che fare con gli stupefacenti. Un evento fortuito, banale e per nulla significativo di per sé spalanca le porte a un'indagine complessa e articolata capace di smantellare un'intera rete di spaccio di droga. E' l'opportunità capitata agli agenti della polizia locale che il comando di Trieste non si è lasciato scappare. Tutto è iniziato a giugno con il cappottamento di un'auto in via Locchi in cui viaggiavano due pregiudicati per droga. Nel veicolo incidentato fu rinvenuta un'ingente somma di denaro. I contanti nascosti nell'auto hanno insospettito il nucleo di polizia giudiziaria che dopo aver informato il PM Federico Frezza ha varato una serie di pedinamenti mirati. Appostamenti che hanno confermato come entrambi fossero degli spacciatori recidivi di eroina. Quindi la scoperta degli altri personaggi chiave nella rete triestina. In primis il pakistano richiedente asilo Uzzair Uzzair che aveva trasformato la sua abitazione in una centrale di spaccio di eroina e cocaina. Sentendosi braccato l'uomo cambiava più riprese domicilio spostandosi nell'abitazione della compagna. La droga che spacciava stando agli accertamenti arrivava da Udine. In seguito a novembre finiva in manette un'altra componente della gang, la quarantena triestina Cristina Albanese che vendeva le dosi al dettaglio nei rioni di San Giovanni e del Viale 20 Settembre. Quindi a cascata gli altri arresti. Quello di un altro spacciatore pakistano, Afridi Aziz, oltre che del boss Uzzair che interrotto i contatti con i Friuli, era stato costretto ad aprire nuovi canali d'acquisto nella vicina Slovenia. A ritorno da una trasferta oltre i confine è scattato l'arresto del 31enne e della sua convivente, la cittadina serba Sandra Ulanovic. Ai quattro finiti al coroneo si aggiungono altrettante denunce a carico di un 35enne triestino, di un pordenonese di 32 anni, un pakistano di 25 e un afgano di 26, tutti coinvolti a vario titolo nell'organizzazione mista italiani ed immigrati che puntava a radicare i propri affari sul mercato della droga nostrana. E ancora a cronaca con un soccorso a persona da parte dei pompieri. Alle 13 e 15 di oggi il distaccamento di Muggia con il supporto della squadra Speleo Alpino Fluviale della sede centrale è intervenuta in una zona boschiva accrociata di Prebenico in comune di Sandor Ligo. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno trovato un anziano a rivolse a terra colpito da Malorio, un escursionista che stava passeggiando sul sentiero che vedete. Sul posto assieme al soccorso alpino i pompieri hanno provveduto ad imbarellare l'uomo sulla barella denominata Toboga e a trasportarlo lungo i sentieri fino a un'ambulanza che si trova a circa 800 metri di distanza dal luogo in cui l'uomo accusato in Malorio è stato poi ricoverato per accertamenti all'ospedale di Cattinara. Torniamo invece sull'idea progettuale lanciata ieri da Michele Babu, del consigliere comunale di Forza Italia, al telegiornale di Telequattro, la maxi terrazza al bivio di Barcola. Oggi sono in grado di farvi vedere il rendering di quello che potrebbe diventare quel tratto di riviera triestina. Una maxi terrazza al bivio di Barcola che congiunga le tre attuali andando ad integrarsi in modo armonico con il paesaggio e con tutte le dotazioni del caso, docce, rampe e accesso ai disabili. Ecco il rendering della proposta di progetto presentata dal consigliere comunale di Forza Italia, Michele Babuder, in commissione lavori pubblici del comune di Trieste. Un'opera che integrerebbe l'esistente andando a superare pure la vetustà di alcune banchine danneggiate dalla recente mareggiata, creando un profilo a più piani degradanti verso il mare con uno stile molto vicino a quanto realizzato sul lungomare dei grandi alberghi costruiti di recente in Istria e Dalmazia, vedi la Baia delle Cicale di Lussino. La differenza però è che la struttura rimarrebbe rigorosamente pubblica e accessibile a tutti. Innanzitutto mi fa piacere che l'ipotesi progettuale abbia accolto anche così il benestare del sindaco che si è manifestato entusiasta. Mi fa piacere perché partendo da quelli che sono stati i danni che purtroppo hanno subito le strutture durante le mareggiate di ottobre dello scorso inverno, la mia è stata una proposta volta a riqualificare un'area nel rispetto di quello che è anche il suo inserimento, il contesto naturale, quindi vicino alla riserva marina ma anche vicino e molto cara ai triestini per quanto riguarda l'apprezzamento e la possibilità di recarsi al mare. L'opera su una superficie complessiva di 150 metri di lunghezza, per 10-15 al massimo di larghezza, andrebbe a colmare quei vuoti tra le terrazze esistenti, ovvero quei due buchi attualmente occupati da tratti di mare e scogliera, peraltro in degrado, che offrirebbero nuovi spazi agli amanti del mare e della tintarella. Si tratta di un'ipotesi progettuale ovviamente che andrà approfondita, che andrà valutata da parte di un progettista e di chi obiettivamente di queste opere si intende. L'intendimento e la volontà sarebbe quella di ampliare e congiungere quelle che sono le tre terrazze esistenti e magari ampliare così le zone a mare, favorendo un accesso sia al mare sia alle terrazze medesime. Non toccate la maturità, è questo il grido di protesta che in molti hanno sentito risuonare tra le vie del centro di Trieste questa mattina. A lanciarlo il corteo degli studenti delle scuole superiori triestine che a Trieste, così come in altre 30 città italiane, sono scesi in piazza. Siamo solo noi, non c'è nessuna sigla perché volevamo che questo corteo fosse al di sopra delle parti. Protestiamo semplicemente per la nuova matura che con le tempistiche ci sta, diciamo, tagliando le gambe. Studenti di vari istituti sono scesi per le vie della città in segno di protesta contro le tracce per la maturità. Le esigenze sono di fare chiarezza su come sarebbero strutturate queste prove, i quesiti contenuti in esse e di capire quanto effettivamente siano congruenti con i programmi di studio portati in classe durante l'anno. I moltissimi ragazzi presenti al corteo sono partiti con la loro marcia da piazza Goldoni per poi transitare per piazza Oberdan e concludere con un presidio in piazza Verdi. Protestiamo per la maturità che è cambiata e sta continuando a cambiare in corso d'anno e per i tagli all'istruzione. Principalmente il motivo della maturità è che non abbiamo le idee chiare e gli insegnanti non sanno cosa fare perché nemmeno loro hanno le idee chiare, sta continuando a cambiare e non capiamo niente e siamo un po' agitati per il tutto. I programmi scolastici devono essere adeguati alle nuove simulazioni che sono imposte dallo Stato, simulazioni che devono essere con argomenti precisi e non molti alunni si ritrovano a fare questi argomenti e quindi ci ritroviamo a fare delle simulazioni a cui noi non siamo preparati al massimo. Siamo il gruppo dei rappresentanti, abbiamo cercato di organizzare questo corteo per cercare di muovere più gente possibile e penso che ci siamo riusciti, ci siamo radunati con tutti i rappresentanti di tutte le scuole per decidere di portare ognuno in piazza i propri compagni, i propri colleghi diciamo e quindi e niente abbiamo semplicemente cercato di staccarci da delle associazioni politiche e dire di fare una cosa a politica perché appunto noi crediamo che qualsiasi studente va in contrasto a questa nuova maturità, qualsiasi sia il suo orientamento politico. Nel 2018 la Corte dei Conti regionale ha emesso sentenze di condanna per un totale di 7 milioni e 800 mila euro. Il dato è stato diffuso oggi all'inaugurazione dell'anno giudiziario contabile. Tra le sentenze emesse c'è anche la condanna nei confronti della fondazione ex IPAB Villa Russiz di Capriva del Friuli in provincia di Gregorizia a risargimento di danno erariale pari a 800 mila euro derivante dalla distrazione di un finanziamento pubblico regionale. Contestata nel 2018 con diversi inviti a dedurre anche la responsabilità amministrativo contabile a carico di 16 dirigenti medici di un'azienda ospedaliera. Omettevano forse anche per dimenticanza detto il procuratore di timbrare al passaggio dal contesto lavorativo istituzionale a quello di libero professionista, vero, d'attività ospedaliera pubblica a inframenia con un accumulo di ore di lavoro ordinario che hanno potuto utilizzare per addiempire alla professione privata. I recuperi conseguiti con l'invito a dedurre sono di 38 mila euro a concluso la spedicato cui poi si aggiungono 11 mila euro restituiti da medici in corsi nello stesso reato. Poi tra gli altri argomenti trattati e denari recuperati dalla magistratura contabile ci sono quelli legati al danno di immagine per i dipendenti pubblici assenteisti, quindi comune, soprintendenza e regione. Sentiamo le parole del procuratore spedicato proprio in questa materia. Allora, intanto per quanto riguarda l'assenteismo abbiamo promesso che ce ne saremmo occupati nella scorsa relazione e ce ne siamo occupati. Abbiamo trattato fattispecie di assenteismo, alcune delle quali si sono datate intorno anche al 2012, al 2013, sino ad arrivare agli anni più recenti. Sono stati già in sede, dopo l'invito a dedurre, che hanno riguardato dipendenti della soprintendenza archeologica del comune di Trieste e anche la regione, sono intervenuti i recuperi, di cui vi ho detto circa 40 mila euro. Ed inoltre, anche in sede e in corso di giudizio, dopo le missioni di atticitazione, ad esempio nei confronti dei dipendenti del comune di Trieste addetti al mercato ortofrutticolo all'ingrosso, quattro dei dipendenti hanno risarcito il danno. Un altro, invitato a dedurre, l'aveva già risarcito prima. Per cui ritengo che l'azione della procura sia stata efficace nel recupero delle somme. Ci sono ancora altri casi di cui dovremmo occuparci, inviti a dedurre nei confronti dei dipendenti della regione. Quindi ulteriori casi di danno di immagine da recuperare per dipendenti della regione assenteisti, di cui parleremo ovviamente nei prossimi telegiornali. A margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario contabile, anche le parole del Presidente della regione, Fedriga. Sì, ma noi vorremmo iniziare una collaborazione con la Corte dei Conti che possa vedere anche dei controlli in etirine della formulazione della legge e degli atti. Questo penso che sia favorevole perché vorrebbe dire una collaborazione interistituzionale fondamentale che va a superare forse delle contraddizioni passate che vedevano come se le pubbliche amministrazioni fossero su fronti avversi. In realtà serve una collaborazione per far funzionare le cose e dare risposte ai più veloci cittadini. Così il Presidente Fedriga, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, che ha sottolineato come si sentirà la Corte stessa anche in occasione della riforma degli enti locali. Poi sui rapporti tra Lega e 5 Stelle a livello nazionale, anche per quanto riguarda il nodo della TAV, si è espresso così. Mi sembra che si è trovato una sintesi rispetto oggettivamente a punti di partenza differenti, dove invece è stata una sintesi dove non si blocca la TAV ma si prendono e si fa le riflessioni che ovviamente una parte del componente della maggioranza chiede ed è necessario quando si governa con più forze politiche cercare di trovare una sintesi per raggiungere un risultato perché dopo i numeri contano. Infine l'augurio del Governatore Fedriga anche in occasione delle imminenti elezioni regionali in Sardegna. Sulle elezioni in Sardegna mi auguro che si possa riproporre con la voglia di cambiamento da parte dei cittadini sardi che si è dimostrato da noi in frequenza Giulia lo scorso anno ma quest'anno già in Abruzzo. E sicuramente delle dichiarazioni del Presidente Fedriga si parlerà questa sera a Ringhi in studio con Ferdinando Avarino, Radamès Razza della Lega, Michele Babuder di Forza Italia, Lorenzo Cocciani del PD, Gian Rossano Giannini dei 5 Stelle. Poi 22.30 appuntamento con Maxino e Flavio Furian per parlare tra l'altro del importantissimo successo del libro sulla Boba de Borgo, Walter, quindi per gli appassionati del genere restate su Telequattro. Proseguiamo parlando invece delle prime prove di integrazione dal punto di vista del sistema di riscossioni di Esatto fra Trieste e Gorizia. Ne ha parlato la sua prima ospitata a Sveglia Trieste, l'assessore comunale di Trieste alle partecipate De Santis con il nostro Umberto Bosazzi. Volendo adoperare un linguaggio che attinge al mondo del teatro siamo alla prima lettura del copione che in tempi non strettissimi potrebbe portare ad una collaborazione fra i comuni di Trieste e Gorizia per la riscossione dei tributi. L'idea ovviamente di Gorizia che è anche appunto del sindaco è quella di guardare verso una maggiore efficienza efficace ed economicità che poi è quella a cui deve puntare l'azione della pubblica amministrazione e per questo si guardava ad Esatto. Le parti in commedia ci sono già ma quella del Leone sarà affidata ad Esatto, il cui modello verrebbe in qualche modo esportato a Gorizia. Francesca De Santis, assessore comunale alle partecipate, ne ha parlato stamani nel corso della sua prima partecipazione a Sveglia Trieste. I numeri che oggi abbiamo nel comune di Trieste in fatto di riscossione e anche nella parte equattiva sono davvero ottimali, i cittadini sono super soddisfatti. De Santis però ha tenuto a precisare almeno un paio di aspetti della faccenda. Non si tratta neanche di un accordo, di un colloquio preliminare ma siamo proprio ai primordi. Quindi il discorso dei rapporti fra Trieste e Gorizia, alla luce delle discussioni che si sono scatenate in queste ultime settimane e che De Santis in sostanza così ridimensiona. Questo incontro non c'entra assolutamente nulla con l'idea appunto di area metropolitana, fusione dei comuni e via dicendo ma si tratta semplicemente di pensare a quella che è appunto come già ho detto prima, l'economicità e l'efficienza che il comune di Gorizia vuole perseguire nei confronti della gestione dei tributi per cui esula da tutti gli altri discorsi assolutamente. Un istante di pubblicità, ci vediamo tra poco con altre notizie e servizi. Ben trovati con la seconda parte del telegiornale di Telequattro. Il parco, il castello di Miramare cambia modo di comunicare con un nuovo logo e con una nuova immagine. Andiamo a sentire. Storia, dinamismo, apertura verso il mondo, inclusività e pluralità. Il castello di Miramare cambia volto e immagine e presenta il suo nuovo logo, segno di un nuovo corso volto a comunicare e raccontare la propria storia in maniera diversa, proiettandosi verso il futuro, con un obiettivo attrarre sempre più visitatori. Il logo, presentato oggi e realizzato dallo studio di architettura Migliore, più servetto, rappresenta un pittogramma di colore rosso che rimanda alla M, lettera iniziale di Massimiliano d'Asburgo, ma anche di museo, mentre nella sua parte inferiore un segno aperto ripropone la sagoma del molo e a livello ideale l'apertura del museo alla città, ma anche all'Europa e al mondo. Teniamo conto che il sito di Miramare raggiunge numeri che sono alla pari dei primi siti, Miramare è tra i primi ma non tra i primissimi, anche qui però dobbiamo porci una domanda, e cioè la fruibilità va garantita a tutti e quindi ragioniamo, partendo da questo punto di vista, ma ragioniamo anche sul fatto che i costi di manutenzione del parco di Miramare sono micidiali, quindi se magari riuscissimo a far capire i triestini in primis, perché sono loro che vanno a passeggiare per lo più al parco di Miramare e con grande amore, perché da quando sono nati ci vanno, però che piccolissimo contributo, moltiplicato per tante centinaia di migliaia di persone, può aiutare a gestire meglio il sito. Definitivamente chiuso e risolto il problema a scabbia all'ITIS di Trieste e varate anche nuove iniziative, sentiamo. Stiamo arrivando praticamente, stiamo scollinando, abbiamo fatto tutta la strada in salita e le notizie che mi dicono della prossima settimana potremmo riprendere la vita normale, questo è il primo segnale appunto dopo le note disgrazie che ci hanno coinvolto purtroppo con la psicosi che si è generata e quindi devo ringraziare gli artisti che hanno accettato di venire qua e fare questa mostra. È decisamente scongiurato il pericolo scabbia all'ITIS. La questione nei mesi scorsi aveva fatto molto discutere, creando qualche allarme, con diversi episodi di contagio all'interno della struttura. Ora si riparte con le consueti iniziative culturali esibendo una mostra dal titolo Bislacchi Gabinetto Artisti. L'iniziativa è partita da due ragazzi, Nicola Facchini ed Eric Gerini e da diversi curatori che hanno voluto unire due elementi assieme, dal tema della persona alle rimanescenze della terra di origine dei due artisti, il Friuli Venezia Giulia. È un progetto espositivo pensato e studiato in stretta collaborazione con l'azienda Servizi alla Persona ITIS di Trieste, perché loro hanno avuto un'intuizione, oserei dire, intelligente, cioè che uno spazio per la cura delle persone non deve essere uno spazio separato dalla vita. Le due artisti lavorano quasi insieme, ovviamente anche separato, ma la influenza dell'uno per l'altro si nota anche nelle opere. Io vengo qui con molto piacere soprattutto perché apprezzo un progetto del genere, perché ci fa capire l'importanza di questa struttura che vuole rivalutare e stare vicino alle persone con disabilità, magari con problematiche, persone che hanno, come dire, delle criticità e vanno alleviate anche con eventi gioviali di questo tipo. Si può curare le persone anche con l'arte e non separandole dalla vita. Non c'è più pane per i loro denti, questo è lo slogan riportato su più di 30.000 sacchetti di pane che da oggi vengono venduti e accompagnati da un fumetto per un'efficace lotta contro le truffe e gli anziani. L'iniziativa della Questura di Trieste è nata per fornire utili consigli ai consumatori da parte della Polizia di Stato e ad essere vicini ai cittadini al fine concreto del concetto di sicurezza partecipati. I sacchetti che avete visto vengono distribuiti in tre panetterie del comune di Muggia. Veniamo ora alle romantiche, per così dire, immagini di ieri sera di una Trieste avvolta nella nebbia in stile fumo di Londra. Sentiamo, anzi, vediamo il servizio di Bianca Navarra. Piazza Unità, esterno sera, dopo le 20 il cuore di Trieste si presenta così. Non sono le rive del Tamigi, in fondo non c'è la Madonnina di Milano. Quello che non si vede è il comune di Trieste, un evento singolare per la nostra città, un paesaggio fiabbesco, ipnotico, che ieri sera ha avvolto la piazza nascondendo nei contorni. Tante le persone che si sono fermate a scattare foto incuriosite dal fenomeno insolito. Tanto fitta era la nebbia che era difficile intravedere le luci blu della pavimentazione, abbassandone notevolmente la visibilità sulle strade, nascondendone quasi le luci delle macchine. Nelle prossime ore le temperature saranno miti, con cielo sereno. Nella tarda serata, sulla pianura e sulle coste, soffierà bora sostenuta e domani ci sarà un drastico calo delle temperature, con raffiche di vento superiori ai 100 km all'ora. Vediamo ora invece cosa ci aspetta in edicola sul settimanale Diocesano Vita Nuova e anche qui c'è la Boba de Borgo. Il successo di Walter, la Boba de Borgo, approda anche su Vita Nuova. Il settimanale Diocesano dedica un articolo al libro ispirato da uno dei personaggi protagonisti di Macete, il programma di Telequattro in onda il mercoledì dalle 19. Con tre articoli Vita Nuova prosegue anche questa settimana il discorso sulla condizione del carcere. L'inchiesta è richiamata anche dalla foto di copertina, laddove Don Paolo Rachic, direttore del periodico, nell'editoriale stigmatizza l'episodio accaduto a Trani, una ragazza imbrattato all'esterno della cattedrale con un messaggio d'amore. Episodio purtroppo non isolato. Vita Nuova nelle pagine interne si occupa anche dei drammi umani e delle nuove povertà in cui possono cadere i padri separati, della storia e del restauro della chiesa degli armeni di via Giustinelli, del convegno catechista diocesano, della vita comune dei sacerdoti e degli esercizi spirituali laici guidati dall'arcivescovo Crepaldi. C'è spazio per un incontro con il prefetto Valerio Valenti e per un servizio sul convegno del centro Veritas e di Limes Club sulla via della Seta e gli sviluppi del porto. Le pagine di Cultura e Spettacolo chiudono il giornale con un approfondimento sui 200 anni dall'infinito di Leopardi. Vita Nuova al solito si potrà acquistare anche nelle parrocchie. Bene, tutto per quanto riguarda questo telegiornale. Non dimenticate di scaricare, se non l'avete già fatto, l'app di Telequattro per rivedere TG, Servizi e Produzioni. Buona serata.